Non è normale che un bambino sia in perfetta salute un giorno e il giorno dopo diventi instabile. PANDAS sta per disturbi neuropsichiatrici infantili autoimmuni associati a infezioni da streptococco. Inizia come una faringite e poi si sviluppano sintomi come il disturbo ossessivo compulsivo. Ne parleremo a Box Salute venerdì 29 marzo ore 21 assieme al dottor Salvatore Savasta, responsabile del centro di neurologia pediatrica infantile del Policlinico San Matteo di Pavia e con alcuni genitori che lottano per il riconoscimento di questa patologia e il diritto di cura, perché la PANDAS esiste.